benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui parleremo di costruzione di grafi in particolare cercheremo di capire come possiamo mettere a frutto i meccanismi di percezione che abbiamo visto finora per andare a costruire delle visualizzazioni che siano efficaci e soprattutto che rispettino i principi di integrità visuale l'approccio che vorrei utilizzare è quello che si basa sulla grammatica dei grafici ovvero una teoria che sta dietro la costruzione di grafici che prevede una separazione tra quelli che sono i dati e le loro elaborazioni quella che l'aspetto estetico e definisce i grafici in termini di elementi fondamentali che possono essere assemblati al fine di costruire quello che è una visualizzazione normalmente sono previsti tre passi sostanziali la parte di specifica quindi io vado a dire come costruisco il grafico la parte di combinazione di assemblaggio in cui metto i veri elementi per cui anche esempio gli elementi a supporto e poi la parte visualizzazione che sostanzialmente è un aspetto di basso livello che riguarda diciamo la parte hardware e software che permette di mostrare la visualizzazione in qualche modo quando parliamo di specifica che è la parte che ci interessa di più su cui noi possiamo andare a agire più significativamente normalmente quello che andiamo a fare è andare a specificare quali sono i dati ovvero quali informazioni quale misure noi vogliamo andare a rappresentare ad esempio qual è l'asse qual è la misura che rappresenta l'asse x e quale misura rappresenta l'asse y andiamo poi a specificare il tipo di trasformazione che noi vogliamo andare a fare che so magari vogliamo andare a contare gli elementi che stanno in una categoria oppure vogliamo andare a fare un ranking eventuali trasformazioni e meccanismi di scala per cui normalmente noi utilizziamo scale lineari ma ben sapete che è possibile anche utilizzare delle scale logaritmiche il sistema di coordinate che vogliamo utilizzare nel caso più semplice utilizziamo un sistema cardinato scusate cartesiano rettangolare ma potremmo anche utilizzare un sistema di coordinate polari o comunque qualche altro meccanismo di definizione delle coordinate infine dobbiamo andare a specificare gli elementi che vogliamo utilizzare particolare gli oggetti grafici e quali sono i loro attributi esattamente come abbiamo analizzato finora parlando di percezione e poi eventuali guide ad esempio gli assi le leggende i titoli annotazioni eventuali per cui ad esempio se noi pensiamo di andare a definire quello che è uno scatterplot quindi un diagramma a punti su piano cartesiano i dati sono x e y che arrivano dai valori x e y di qualche insieme di dati la trasformazione non esiste sostanzialmente io prendo i dati come sono la scala è una scala lineare delle due dimensioni quindi abbiamo due scale in un piano cartesiano il sistema di coordinate è un sistema di coordinate rettangolari che utilizza le due dimensioni gli elementi sono i punti e la loro caratteristica è la posizione sostanzialmente la combinazione di x e y e poi aggiungiamo due guide che sono due assi che corrispondono alle dimensioni 1 e 2 esistono alcuni sistemi di visualizzazione che vi permettono di andare a specificare tutti questi passaggi e andare a costruire il grafico ricordiamoci che quando andiamo a costruire un grafico dobbiamo poi aggiungere tanti elementi quindi abbiamo i componenti dati quindi gli oggetti i loro attributi il layout quindi come andiamo a posizionarlo il sistema di coordinate è l'aspetto principale ma poi ci sono alcuni accorgimenti specifici che possono essere molto utili e tutti gli elementi supporto innanzitutto gli assi che quindi sono le guide le etichette leggende eccetera quindi sostanzialmente ricordiamoci che noi dobbiamo andare a rappresentare quella che è una visualizzazione e dobbiamo andare a supportare i diversi passi quindi la percezione e il ragionamento e poi una valutazione e una comprensione di quello che è il grafico nell'andare a codificare i nostri valori ricordiamoci che per ogni variabile noi dobbiamo avere il tipo di oggetto e l'attributo e questa è la decisione principale che dobbiamo prendere e poi dobbiamo andare essenzialmente a fare una distinzione in termini di tipo di dati ovvero dati che possono essere di tipo quantitativo oppure di tipo categorico quindi l'intervallo rapporto assoluto oppure nominale e ordinale una decisione che guida la scelta degli oggetti e degli attributi e di altri aspetti che riguardano un grafico è il tipo di relazione che io voglio andare a rappresentare ad esempio se io sto ragionando all'interno di una categoria posso andare a fare semplicemente un confronto un valore è più alto o più basso dell'alto posso fare un ordinamento posso fare un rapporto parte tutto posso andare a rappresentare quella che è una distribuzione se ho più misure ad esempio una delle misure può essere il tempo e quindi ho delle serie temporali una certa quantità nel tempo posso avere delle deviazioni rispetto a delle misure o dei riferimenti predefiniti oppure posso avere delle correlazioni iniziamo a ragionare su quella che è la codifica degli aspetti quantitativi andando a considerare che normalmente volendo essere sintetici possiamo avere sei tipi principali di rappresentazioni possiamo avere gli oggetti con la loro posizione possiamo avere delle linee possiamo avere la loro combinazione quindi oggetti che sono le linee più i punti le barre orizzontali o verticali e l'area ovviamente poi gli oggetti possono cambiare perché qui io vi ho rappresentato un'area in termini di rettangoli potremmo utilizzare delle sfere, delle bolle o qualunque altra forma geometrica il primo tipo di relazione che possiamo andare a rappresentare è quella del confronto nominale quindi quando dobbiamo andare a confrontare i valori associati a diverse categorie in generale dobbiamo fare attenzione che una soluzione generale non esiste perché dipende dal tipo di dati che vogliamo andare a rappresentare e dai loro valori effettivi ad esempio può capitare che esistano delle piccole differenze che potrebbero essere difficili da notare se utilizziamo un certo tipo di codifica rispetto a un altro ad esempio utilizzare una scala che non è basata su zero se abbiamo tutti i valori molto alti potrebbe essere utile possiamo utilizzare ad esempio per questo motivo dei dot plot invece che utilizzare dei diagrammi a barre ma la codifica che normalmente utilizziamo è quella di utilizzare delle barre ricordatevi che quando utilizziamo delle barre la lunghezza sostanzialmente della barra è la dimensione quindi l'attributo che codifica il valore per cui dobbiamo sempre utilizzare delle scale che abbiano come base zero altrimenti abbiamo un'esagerazione delle differenze quindi abbiamo quello che è un life factor significativamente maggiore di 1 oltre alle barre orizzontali abbiamo anche le barre verticali che spesso vengono chiamate colonne quindi un diagramma a colonne quindi attenzione l'altezza o la lunghezza della barra è l'aspetto quindi l'attributo che codifica il valore la cima della barra, la posizione della cima della barra rispetto all'asse può essere di aiuto ma non è l'aspetto che noi notiamo primariamente quindi è di supporto per avere una misura un po' più precisa ma non è la codifica principale per cui di nuovo, ripeto, l'asse deve partire da zero un altro aspetto è che normalmente la larghezza delle barre non codifica alcun valore potrei decidere di codificare un'altra variabile nella larghezza delle barre se avessi la necessità di farlo però normalmente la larghezza non viene mai percepita quindi se voi dovete codificare qualcosa sulla larghezza dovete dirlo esplicitamente ed è una cosa che normalmente non si fa quindi se io ho un confronto qui andiamo a prendere ad esempio un insieme di dati che vedremo più volte che è sostanzialmente l'affluenza elettorale nelle elezioni regionali nel 2018 scusate, le elezioni del 2018 a livello regionale e quindi vediamo diverse regioni e quello che è il turnout ovvero l'affluenza elettorale questo è il caso semplice in cui abbiamo una categoria il corrispondente valore e possiamo andare a confrontare due categorie è ovvio che essendo i valori concentrati tutti qui quindi sopra il 60% tutta questa parte sottostante delle barre sostanzialmente non è molto utile o comunque non ci aiuta anzi comprime i valori abbastanza per cui questi due valori ad esempio Marche e Lombardia che sembrano molto simili in realtà hanno una piccola differenza quello che spesso più o meno volontariamente facciamo è quello di andare a tagliare l'asse quindi ad esempio farlo partire da 60% ecco in questo caso la differenza che prima notavamo malapena in questo caso è più evidente il problema è che a questo punto se andiamo a prendere la regione con l'affluenza più alta il Veneto e quella con l'affluenza più bassa la Sicilia e andiamo a confrontarle ecco l'iFactor ci dice che abbiamo una esagerazione di oltre 5 volte di quella che è la differenza quindi riusciamo a vederla ma la nostra percezione è decisamente alterata sì che c'è il 60% qua però comunque la nostra percezione immediata è di molte volte mentre invece la differenza è sostanzialmente da circa il 70% scusate da circa il 62-63% a il 76-77% quindi c'è un 12-13% di differenza oltre alle barre verticali e orizzontali abbiamo la possibilità delle barre verticali qui la compressione è ancora più significativa perché le barre sostanzialmente sono corte quello che possiamo notare qua è che purtroppo le etichette sono non orizzontali se le scrivessimo orizzontali si sovrapporrebbero e quindi sarebbero illegibili quindi dovendole mettere in diagonale è molto più difficile leggere per cui in generale la raccomandazione è quella avendo delle etichette relativamente lunghe quindi oltre pochi caratteri non utilizzare delle barre verticali quindi diagramma a colonne ma bensì un diagramma a barre orizzontali in cui io posso scrivere tranquillamente le mie etichette senza doverle o sovrapporre oppure ruotare e queste sono decisamente più leggibili rispetto a queste che sono in verticale un altro importante aspetto a cui bene fare attenzione è la distanza tra le barre normalmente il valore che può essere utilizzato è una distanza che è pari alla larghezza delle barre con una variazione del più o meno 50% cioè da una distanza che è mezza barra a una distanza che è una barra e mezza in generale ricordandoci che più gli oggetti che vogliamo confrontare sono vicini più è facile fare un confronto è bene limitare questa distanza quindi una distanza che è dell'ordine del mezzo spessore di una barra è un qualcosa che generalmente va bene quello che è assolutamente da evitare l'abbiamo visto in qualche esempio precedente è avere delle barre che si sovrappongono perché non riusciamo bene ad apprezzare tutta la lunghezza della barra e quindi abbiamo una percezione che è sostanzialmente falsata un altro modo di andare a rappresentare dei dati se vogliamo andare a fare un confronto è quello di utilizzare un dot plot ovvero un diagramma a punti dove abbiamo il valore che è codificato come posizione rispetto a un asse e la categoria che è sostanzialmente la posizione rispetto all'altro asse la posizione rispetto all'asse della categoria è la codifica che viene fatta anche per i diagrammi a bar quindi la posizione rispetto a un asse mi permette di andare a identificare le diverse categorie in questo caso non c'è la necessità di avere una base 0 per l'asse perché la codifica non è data dalla distanza ma bensì è data dalla posizione rispetto all'asse quindi volendo andare a rappresentare i dati di prima ecco gli stessi dati rappresentati con un diagramma a punti ora qui sono molto compatti per cui è difficile andare a leggere non sono neanche ordinati ma sostanzialmente vedete che posso apprezzare benissimo le differenze quindi vedo che alcuni ad esempio questi sono molto in alto altri sono decisamente in basso terzo modo per andare a rappresentare un confronto è utilizzando delle aree delle dimensioni e ora essendo le dimensioni non molto differenti è difficile andare a notare le differenze per cui è chiaro che questo 63 e questo 77 messi vicino riusciamo ad apprezzarli ma ovviamente non abbiamo nessuna capacità di andare a percepire quelli che sono i rapporti effettivi un po' perché qui ne abbiamo tanti e quindi sono piccoli un po' perché è ovvio che qui non posso neanche utilizzare il trucco sbagliato peraltro di andare a tagliare le barre perché se vado a modificare le aree altero ancora di più quella che è la percezione quindi il confronto tra le aree è molto molto difficile altro modo di rappresentare un confronto è quello utilizzando il conteggio ovvero una tecnica che si chiama isotype che è una tecnica sostanzialmente sviluppata all'inizio del secolo scorso in un tentativo di andare a definire quello che è un sistema generale diciamo tipografico per andare a rappresentare graficamente delle informazioni per sostanzialmente lo scopo dell'educazione per cui Maria e Notto Neurath hanno sviluppato questo tipo di rappresentazione che adesso è ovviamente molto diffusa in cui vado a rappresentare i valori utilizzando un certo numero di figure icone lettere o qualunque altra cosa quindi il numero di ripetizioni di ogni figura rappresenta un certo numero di unità della mia misura originale vedete che ovviamente se voglio essere abbastanza preciso ho la necessità di andare a tagliare a metà o essere o tagliare ancora di più alcune figure vedete che qui la scelta in particolare è stata di al massimo andare a rappresentare le metà anche perché altrimenti sarebbero difficilmente leggibili questo vuol dire che la precisione è molto approssimativa ma comunque abbiamo una buona idea e di nuovo la lunghezza della fila può rappresentare il valore e possiamo andare a contare il numero di unità quindi quante volte viene ripetuta la stessa figura per capire i valori una evoluzione una variante del confronto pure semplice è quello che invece si basa sul confronto ma con un ordine quindi sulla base di una classifica anche qui di nuovo abbiamo sostanzialmente i meccanismi che abbiamo anche per il confronto nominale l'unica accortezza è che normalmente i dati vengono ordinati normalmente visto che noi inizialmente pensiamo a una cultura di tipo occidentale gli elementi che stanno in alto oppure a sinistra sono quelli più importanti quindi sono quelli che stanno in cima alla classifica quelli che stanno a destra o in fondo è ovvio che sono gli ultimi della classifica quindi normalmente io posso fare un ordinamento crescente o decrescente a seconda di dove voglio mettere l'attenzione e poi andare a rappresentare i miei dati per cui per lo stesso insieme di dati che abbiamo visto prima ad esempio qui siamo andati a ordinare le diverse categorie ovvero le regioni in base alla misura ovvero l'affluenza elettorale di nuovo qui abbiamo il problema che le barre devono essere con base zero e quindi non permettono di apprezzare molto le differenze è ovvio che essendo vicini anche i valori ordinati qui i valori simili per forza sono uno vicino all'altro e quindi qui entra in gioco quella che è la distanza minima percepibile che spesso sulle barre di queste dimensioni è superiore a quella che effettivamente c'è tra le due barre per cui è decisamente preferibile andare a utilizzare un dot plot vedete che in questo caso rispetto al diagramma di prima in cui i valori non erano ordinati è tutto decisamente più facile da leggere e quindi possiamo anche andare a identificare diversi gruppi quindi alcuni che sono molto bassi e altri che sono tendenzialmente alti una variante del dot plot è quello che si chiama il lollipop dove sostanzialmente aggiungo una barra piuttosto spessa che connette il punto con la categoria a questo punto ho una doppia codifica ho la codifica del punto rispetto all'asse ma ho anche la codifica che è la lunghezza di questo segmento per cui tendenzialmente qui abbiamo un po' ridotto perché abbiamo una doppia codifica lo stesso problema che avevamo con le barre tagliate per cui in generale quando abbiamo un diagramma di tipo o vogliamo utilizzare un diagramma di tipo lollipop è preferibile utilizzare una base zero ulteriore variante rispetto a questo tipo di rappresentazione in cui ho la classifica c'è quello in cui io voglio andare a rappresentare una variazione rispetto a un qualche valore di riferimento e qui di nuovo posso utilizzare i punti come al solito ma posso utilizzare anche altre tecniche ad esempio questo è un tipica rappresentazione stile conta chilometri dove ho questo indicatore che varia lungo un angolo quindi sostanzialmente la mia codifica è fatta tramite l'angolo che questo segmento forma con l'orizzontale in realtà l'angolo è quello che sta qui a sinistra quindi non è quello sotto ovviamente l'angolo da solo ne abbiamo parlato quando abbiamo affrontato il tema della percezione è difficile da valutare e quindi molto spesso viene associato anche a una posizione rispetto a un asse l'asse in questo caso non è lineare come siamo abituati in molti casi ma è quello che segue questo semicerchio quindi la posizione rispetto a un asse quello che viene fatto molto spesso quando abbiamo parlato di misura abbiamo detto che è importante dare un riferimento e lungo questo asse andare a rappresentare i valori che sono quelli di riferimento per cui qui la deviazione rispetto a quello che potrebbe essere la sufficienza quindi 50% viene indicata da queste differenze di colori e poi posso andare a identificare un'altra area ad esempio dal 66% fino al 100% in cui invece ho un valore positivo quindi ho la deviazione del mio indicatore rispetto a queste due soglie quindi il fatto che il mio indicatore stia in un'area di un certo colore rappresenta che sono in certe condizioni quindi ho la deviazione rispetto ai valori di riferimento e ho un rating del valore questo tipo di rappresentazione sebbene molto diffusa ha dei grossi problemi sostanzialmente richiede molto spazio è difficile comprimerla per cui ho un arco sebbene spesso sia intuitivo non è immediato andarlo a leggere quindi richiede abbastanza tempo qui posso avere ovviamente delle tacche che mi permettono di leggere ma la lettura precisa della posizione del mio indice è abbastanza complicata una variante che invece di utilizzare un asse sostanzialmente che segue un semicerchio usa un asse lineare è questo che viene di solito chiamato un bullet graph il bullet graph sostanzialmente va a codificare un valore come una barra molto semplice molto intuitivo abbiamo visto che la lunghezza è facile da comprendere anche a livello immediato qui di nuovo invece di andare a lasciare la barra da sola andiamo a utilizzare uno sfondo in maniera del tutto analoga a quanto abbiamo visto prima con il tachimetro dove abbiamo i valori di riferimento o meglio delle aree in cui i valori hanno un certo tipo di interpretazione quindi qui abbiamo sostanzialmente quello che abbiamo chiamato il rating di un indicatore ovvero siamo in grado di capire che se siamo in questa area più scura il valore va bene se siamo in questa area più chiara quindi la lunghezza della barra più bassa il valore non è corretto questo tipo di rappresentazione mi permette anche di andare ad aggiungere un valore di riferimento che può essere l'obiettivo il valore dell'anno precedente o la media in generale è facile andare ad aggiungere questa tacca che è nettamente distinta dal valore primario e quindi mi permette di andare a fare un ulteriore confronto quindi non semplicemente un rating basato sull'area ma bensì un confronto tra il valore attuale e l'obiettivo oppure quello precedente attenzione questo in linea di principio è possibile anche con un indicatore attacchimetro il problema è che mi ritrovo con due lancette ben sapete la presenza di due lancette io posso usarne una di dimensioni di lunghezze diverse ma non sono immediate da distinguere mentre su un orologio per noi è chiaro sapere che la lancetta corta sono le ore e quella lunga sono i minuti qui qual è che si riferisce al valore attuale e quale si riferisce all'obiettivo mentre invece qui è chiaro che il valore primario è questa barra e questa etichetta questa barra verde in questo caso o di qualunque altro colore è semplicemente un riferimento aggiuntivo il vantaggio di questo tipo di rappresentazione è che sostanzialmente è molto compatta per cui io posso andare a compattare diversi indicatori all'interno di un unica pagina di quello che potrebbe essere un cruscotto informativo io qui vi ne ho rappresentati soltanto alcuni vi ho rappresentato sostanzialmente 6 dei dati dell'affluenza delle elezioni del 2018 nelle diverse regioni ma vedete che li posso compattare li leggo tranquillamente è chiaro il valore qui abbiamo ad esempio come riferimento l'affluenza nelle elezioni precedenti e quindi siamo in grado di vedere dove l'affluenza è circa analoga a quella precedente dove inferiore come qui o dove è stata superiore a quello precedente inoltre in base allo sfondo siamo in grado di capire dove è andata bene qui è messo un livello a 75% e dove invece è andata meno bene quando parliamo di variazione spesso una cosa che vogliamo fare è quella di andare a visualizzare quella che è una variazione pre post o con e senza quindi voglio andare a confrontare la stessa misura presa in due condizioni diverse quindi in due tempi diversi oppure con due trattamenti diversi anche qui posso utilizzare diverse tecniche quindi posso utilizzare ovviamente i punti ma ad esempio posso utilizzare una tecnica che si chiama slope chart quindi in questo tipo di diagramma la variazione sostanzialmente è codificata principalmente dalla pendenza di un segmento che congiunge i due punti su due assi paralleli e identici che rappresentano le misure nelle due condizioni quindi ad esempio qui mi trovo l'affluenza nel 2018 su quest'asse di destra l'affluenza nel 2013 su quest'asse di sinistra e la pendenza di questo segmento che congiunge le due misure per la stessa regione mi dice e mi dà un'immediata percezione del fatto che ci sia stata una variazione più o meno marcata e soprattutto in che direzione è stata la variazione quindi qui vediamo che la variazione è stata per tutti sostanzialmente negativa perché abbiamo una pendenza negativa mentre invece nel caso qui della basilicata abbiamo una pendenza che è positiva e quindi ci dice che è stata una variazione positiva ovviamente l'entità della variazione non è immediata perché devo andare a sostanzialmente leggere i valori sui due assi ma la direzione è sostanzialmente una impressione di quanto è grande soprattutto rispetto agli altri è decisamente immediata un'alternativa che posso utilizzare quando ho queste confronti pre-post è ad esempio quello che si chiama un dumbbell plot dove abbiamo in posizione orizzontale solitamente perché le etichette sono lunghe possono utilizzare anche in verticale ma di solito non è utilizzato molto in questo modo quindi sull'asse verticale ho le mie categorie in questo caso le regioni e sull'asse orizzontale ho le affluenze pre-2013 in questo caso post-2018 con un segmento che congiunge questi due elementi quindi sostanzialmente andiamo a vedere questa coppia di punti collegati tra di loro e questo ci dà sostanzialmente la variazione quindi se siamo interessati alla variazione più è lungo il segmento più abbiamo una variazione un altro aspetto che possiamo facilmente osservare è se il punto post è a sinistra o a destra quindi in questo caso vediamo che nella maggioranza dei casi il punto arancione che è il post sta a sinistra di quello verde e quindi abbiamo tutte variazioni in negativo in alcuni casi ad esempio qui oppure qui e qui abbiamo delle variazioni in positivo perché il nostro punto post è a destra quindi di nuovo è facilmente leggibile vedo immediatamente e riesco a confrontare la quantità quindi riesco a fare un confronto in termini di variazioni ho un asse lineare immediato quindi con una griglia quindi sostanzialmente è abbastanza facile da leggere i singoli valori e quindi oltre la dimensione vedo anche facilmente la direzione ovviamente qui tutti gli elementi non sono ordinati per cui faccio fatica a vederli quindi ho una facilità nel andare a identificare la regione perché sono in ordine alfabetico ma non sono ordinati quindi riesco con più difficoltà a fare un confronto in termini di quelli che erano i valori ovviamente io li posso ordinare in base a tanti criteri li posso ordinare in base all'affluenza post li posso ordinare in base all'affluenza pre oppure li posso ordinare in base alla dimensione della variazione all'entità della variazione ad esempio se ordino in base alla prima ipotesi che vi ho fatto quindi in base all'affluenza post quello che ottengo è un diagramma di questo tipo quindi di nuovo abbiamo le coppie di punti legate da questo segmento quindi la lunghezza del segmento mi dà l'entità della variazione e ho un ordinamento che mi dà sostanzialmente quello che è il post in questo caso ho utilizzato invece del caso precedente un direct labeling quindi sono andato a riportare il nome delle categorie le regioni in questo caso immediatamente vicino alla coppia di punti questo per andare ad agevolare la lettura che altrimenti è più complicata se ritrovo il nome come in questo caso abbastanza lontano quindi vedete di nuovo che i vari principi di gesta in questo caso la prossimità possono essere utilizzati per andare ad agevolare quella che è una percezione migliorata e un'identificazione degli elementi più semplice e immediata quando ho una variazione posso utilizzare volendo anche delle barre accopiate per cui ad esempio per ogni regione ho la coppia di barre pre e post ora se confrontiamo questa variazione che è quella che viene utilizzata molto spesso quando abbiamo dobbiamo visualizzare una variazione perché probabilmente è la prima scelta che viene fatta quando uno utilizza Excel la facilità di lettura di questa rappresentazione rispetto a quelle che abbiamo visto prima un dump and plot ordinato o anche non ordinato o uno slope chart sono decisamente diverse quindi in generale quando devo andare a concentrarmi su quella che è una variazione pre e post l'uso di un diagramma barre a meno che ci siano veramente pochissime categorie è decisamente non raccomandato ok tanto per darvi un'idea vi faccio vedere anche uno slope chart che rappresenta non soltanto un slope insieme ma tutte le regioni ecco in questo caso è evidente dove ho crescite decrescite chi sta in alto chi sta in basso quindi anche con un diagramma che non è l'ideale quando ho tante categorie come lo slope chart ho sicuramente raggiunto una capacità di rappresentare in maniera efficace e dato molto superiore rispetto a un diagramma barre a questo punto ci fermiamo un attimo abbiamo visto i primi tipi che sostanzialmente sono quelli più semplici di relazioni che vogliamo andare a rappresentare un semplice confronto dei valori di diverse categorie di diverse elementi all'interno di una stessa categoria il ranking in cui ho un ordinamento e la variazione rispetto a un valore e in particolare in quest'ultimo caso la variazione pre e post che può essere rappresentata in maniera meno oppure più efficace in termini di immediatezza e di capacità di andare a leggere quelli che sono i valori a leggere